Buonasera, sono Roxy, titolare della casa discografica Roxandia Records. Qui a Viareggio ho incontrato il gruppo dei Fratelli Stellari, dei fantastici ma molto sciamannati cantanti reddici del TSO e ho deciso di produrre il loro ultimo disco. Ciao, un bacio a tutti! The Mummy's Dance Dance with me, I am your mummy free Take my hand, move your legs, this is the Mummy's Dance We are splendid mummies, dancing inside the Egyptian Museum in Turin. The Mummy's Dance